... Abbiamo deciso di vestirci così per richiamare quelli che sono i costumi della tradizione pugliese e allo stesso tempo darci un po' di tono, insomma, di tono scenico perché quando si va in scena bisogna avere un abito di scena Il fazzoletto è appunto un elemento fondamentale del costume di una donna dell'epoca attraverso il foulard la donna poteva invitare un uomo a ballare e quindi spesso in questi movimenti circolari col fazzoletto esasperava un po' il tutto proprio a tirare fuori quella voce che non poteva tirare fuori in merito ai suoi sentimenti, alle proprie passioni Il cilindro rappresenta qualcosa in particolare ed è anche un elemento scenico questo è un regalo che mi ha fatto un italiano emigrante poi è un elemento scenico molto importante perché era una delle aspirazioni del popolano quella di poter indossare un cilindro ogni tanto per darsi un tono e anche per prendere un po' in giro quelli che erano gli aristocratici, la gente altolocata in realtà questo cilindro a me serve anche a quello